Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia. Partiamo subito con gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. In Fipi Lì, tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina, a causa di lavori, si segnalano rallentamenti in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che è in vigore uno scambio di carreggiata tra Impruneta, Greve e Inchianti e San Casciano. Sulla regionale Due Cassi, a causa di lavori, è stato chiuso il tratto tra Poggio Estriano e Castiglione d'Orcia. A Firenze, a causa di lavori urgenti, è stata momentaneamente chiusa via di San Nicolò con possibili disagi alla circolazione. Treni si ricorda che oggi 8 marzo, a causa dello sciopero generale e dei trasporti, saranno possibili disagi con variazioni, ritardi e cancellazioni. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!